Donne tra differenze di genere e indifferenza è il titolo emblematico che racconta i nostri giorni del dibattito pubblico promosso dalla CGL e svoltosi oggi al Cinema Excelsior di Sondrio. Presente l'ex segretario generale Susanna Camusso che ha puntato l'attenzione sul valore delle donne in ambito lavorativo e sulla scarsa considerazione della quale troppo spesso godono. L'Italia non c'è dubbio che tra le ragioni della sua non crescita c'è esattamente una ragione di scarsa occupazione delle donne, quindi il primo tema è combattere le discriminazioni e riconoscere il valore del lavoro. Spesso si ha l'idea che il tempo disponibile è il metro di misura per cui si ritiene e si svalorizza il lavoro delle donne, c'è un problema di tempi, di conciliazione tra la famiglia e l'attività di lavoro e non si valuta invece che cosa concretamente viene fatto durante il lavoro. L'opzione donna è stata riconfermata, secondo lei una buona notizia? Non c'è dubbio che ci sono molte lavoratrici che la richiedevano e giustamente era giusto dargli una risposta, L'opzione donna è un altro segno di quelle discriminazioni, perché è una formula attraverso la quale la penalizzazione sulla pensione è indubbiamente molto alta. Questo non ci si pensa mai quando le retribuzioni delle donne sono più basse, quando ci sono i part-time obbligati e non volontari, quando ci sono le poche ore di lavoro, che in realtà si sta mettendo un'ipoteca anche sulla autonomia e sulla libertà quando poi si andrà in pensione. Il sindacato ha qualcosa da rimproverarsi rispetto alle politiche di genere? Non c'è dubbio che ci sono state stagioni di disattenzione, penso per esempio a tutta la lunga stagione della crisi, la preoccupazione per la condizione economica, il tema della difesa dell'occupazione, spesso è stata caratterizzata anche da una disattenzione al fatto che non era la stessa cosa per uomini e per donne. Questo è un tema che riguarda il sindacato come riguarda tutta la società, quello di considerare il tema della condizione di lavoro delle donne come un tema secondario rispetto al tema dell'occupazione in sé. In prima fila una sedia lasciata vuota per non dimenticare tutte quelle donne vittime di violenza, come ha ricordato il segretario generale della CGL di Sondrio, Guglielmo Zamboni. Il tema è assolutamente caldo, non è per nulla superato e non è scontato. Noi dobbiamo andare a vedere che cosa porta alle differenze di genere, quali sono le cause, quali le ripercussioni sulla vita sociale, sulla vita lavorativa chiaramente delle donne e il tutto viene acuito e aggravato ulteriormente dall'indifferenza che troppo spesso va a intaccare la tematica.